Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo in questo nuovo video, oggi ragazzi andiamo a trovare i miei amici su Akinator Ragazzi sarà un po' difficile trovarli, però li andrò a trovare qui sopra ragazzi per il nuovo video Però ragazzi mi raccomando subito, diciamo le super non belle con una bella iscrizione e poi dovete stare a campanellina Se non volete perdere i miei video e le mie live Però ragazzi mi raccomando sempre di andare su Instagram e mettere la gama Cristian e Cristian Fanella su tutte e due E poi ragazzi mi raccomando di andare nel negozio giusto di forza e usare il codice CAP Io vi lascio al video, gioca, mettiamo Allora, il tuo personaggio è femmina? No Il tuo personaggio è italiano? Sì Il tuo personaggio è famoso grazie a Youtube? No Il tuo personaggio ha più di 35 anni? No Il tuo personaggio è famoso? Manco Tu e il tuo personaggio vi vede nella stessa casa? No Ti sei mai innamorato del tuo personaggio? Sì Tu e il tuo personaggio attualmente siete fidanzati? No Il tuo personaggio è lavoro in uno super? No Il tuo personaggio è nato a settembre? No Il tuo personaggio ha più di 17 anni? No Ma sempre così Sei innamorato del tuo personaggio? No Il tuo personaggio è il tuo miglior amico? Sì Il tuo personaggio ha fatto pipì? No Il tuo personaggio è mai stato innamorato di te? No Tu e il tuo personaggio siete nella stessa classe? Sì Il tuo personaggio si asomiglia a un cavallo? No Ma come? Il tuo personaggio ha giocato con la primavera del Napoli? No Il tuo personaggio gioca col numero 7? No Il tuo personaggio è nato a luglio? Manco Il tuo personaggio si confida con te? Sì Il tuo personaggio è più grande dei suoi genitori? No Il tuo personaggio ha ricitato in Lost? No Il tuo personaggio è più grande dei suoi genitori? Odessi No Il tuo personaggio indosso vestiti da donna? Diciamo qualche volta La tua migliore amica Sì Ok Quella era la mia migliore amica Facciamo l'ultimo Il tuo personaggio mi indosso vestiti femminili? No Il tuo personaggio è italiano? Sì Il tuo personaggio è famoso grazie a YouTube? Sì Il tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? No Il tuo personaggio ha a che fare con l'IPS? No Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Sì Il tuo personaggio ha a che fare con Fortnite? Sì Il tuo personaggio è un capitano? Sì Il tuo personaggio ha giocato con Bald? No No Non sai I tu I tacchi? No Il tuo personaggio può essere definito un Blaze? Sì È Capitan Blaze Ragazzi È Capitan Blaze Capitan Blaze Facciamo l'ultimo E poi vi lascio stare Il tuo personaggio è femmina? Sì Il tuo personaggio ti conosce? Sì Il tuo personaggio ha più di sì? No Tu e il tuo personaggio vivete nella stessa casa? No Il tuo personaggio fa parte di Palanis? No Ti sei nominato del tuo personaggio? Sì Tu e il tuo personaggio attualmente siete fidanzati? No Il tuo personaggio ha un fan di Flash? No Il tuo personaggio è attualmente fidanzato con Pierre? No Tu e il tuo personaggio vi siete lasciati? Sì Tu Il tuo personaggio ha più di 18 anni? No Il tuo personaggio ha mai avuto una storia con te? Sì Il tuo personaggio ha le labbra? È certo Che domande sono Il tuo personaggio ha un martello? No Il tuo personaggio ha molti amici su Facebook? No Non lo so Non lo ha Il tuo personaggio ha un martello? Ho detto di no Il tuo personaggio ha La nonna? Sì Il tuo personaggio è mai stato intamorato di idee? Sì Il tuo personaggio ha il penne? I penne? Sì Il tuo personaggio è molto abbronzato? Sì Il tuo personaggio è una donna? Sì Il tuo personaggio è ossessionato dal sesso? No Il tuo personaggio ha il pene lungo? No? No Il tuo personaggio gioca a Simulator? No E chi è? E chi è lei? La tua ex ragazza? No what? Va bene Non è solo un mio amico Un mio amico Diciamo un cappo I miei youtuber Youtuber sì Ragazzi che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Una bella iscrizione Mi raccomando Di usare il codice nel negozio Gessi di Fortnite Noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi